Nel 2022, su 29 milioni di prescrizioni mediche, la Regione del Veneto ne ha erogate solo 16 milioni nelle strutture pubbliche. Questo significa che le altre 13 milioni di visite e analisi sono state effettuate in cliniche private oppure sono rimaste in evase. Rispetto al 2019, anno di riferimento pre-pandemia, le prestazioni mediche non evase sono aumentate di un milione. Il PD regionale parte da questi numeri forniti dalla Quinta Commissione Regionale Sanità per lanciare la sua mobilitazione a sostegno della sanità pubblica. Il tema centrale sono proprio le liste d'attesa. C'è una legge che è la 124 del 98 che è chiara nel dire che nell'ipotesi in cui i tempi non vengano rispettati o quantomeno non venga data l'erogazione correttamente al cittadino che lo richiede sulla base di una prestazione medica firmata ovviamente dal medico di famiglia, il cittadino può rivolgersi all'USD, quindi alla dirigenza, e chiedere anche in via di libera professione intremuraria la prestazione con pagamento ovviamente a carico dell'azienda stessa. Una legge troppo poco conosciuta e così quasi un Veneto su due è costretto a rinunciare alle cure o a rivolgersi al settore privato pagando di tasca propria per superare i tempi infiniti delle liste d'attesa. Ma anche la regione Veneto ne ha conoscenza, noi abbiamo depositato una mozione dove ovviamente chiediamo non solo di pubblicizzare questa procedura perché non è automatica ma anche di mettere un fondo a disposizione per eventualmente rimborsare le prestazioni. Gli altri punti su cui si concentra la campagna del Partito Democratico a sostegno della sanità pubblica sono la carenza dei medici di medicina generale e quello di personale infermieristico e sanitario soprattutto nei pronti soccorso e la tutela della salute mentale. Noi non stiamo mettendo in discussione, non finirò mai di ripetere, il valore, l'eccellenza dei medici, dei infermieri, di tutti coloro che sono in grado di prestare un servizio ma bisogna che i cittadini vengano nelle condizioni di poterlo ricevere e quindi è un problema di organizzazione regionale che non è più di eccellenza. La salute è anche una questione di tempo molto spesso e quando non ce l'hai puoi decidere e di non curarti però questo è un fallimento del sistema sanitario regionale che dovrebbe garantire l'uguaglianza dei diritti di tutti. Nei circoli Dem Veneti e online sarà possibile sottoscrivere la petizione.